Dennis Panduru, l'autista romeno che lo scorso 17 maggio era alla guida dello scuolabus che si ribaltò mentre stava riaccompagnando a casa gli allunni di una scuola media di Arquapetrarca, potrà tornare presto a guidare. I suoi avvocati infatti hanno ottenuto dal giudice di pace di Rovigo il congelamento della sospensione della patente per due anni e sei mesi disposta dalla prefettura subito dopo l'incidente. Il provvedimento di sospensione della patente non sarà in vigore dunque per tutto il periodo che servirà ad arrivare alla sentenza civile. La posizione dell'autista si è notevolmente modificata nell'ultimo periodo. Il 51enne romeno, arrestato inizialmente per omissione di soccorso, pare invece abbia aiutato ad uscire dallo scuolabus ribaltato tutti i bambini e solo dopo, alla vista dei genitori arrabbiati, temendo il linciaggio, si diede alla fuga verso S dove venne fermato dai carabinieri. Secondo gli avvocati dell'autista, dunque, ci sono molti dubbi sul fatto che si possa configurare l'omissione di soccorso. Inoltre, il conducente ha più volte sostenuto che il mezzo che gli era stato affidato dalla cooperativa che gestiva l'appalto del servizio scolastico avesse problemi. Per questo motivo è stato disposto anche ad un accertamento tecnico sul pulmino per capire se ci fossero problemi meccanici. In attesa di tutti questi riscontri e del processo, Dennis Panduro tornerà a guidare.